buongiorno sono monica frassoni co presidente dei verdi europei mi dispiace di non essere con voi oggi ma attraverso questi mezzi tecnologicamente avanzati riusciamo comunque ad avere un minimo di contatto e anche mi permette questo insomma di partecipare in qualche modo al vostro alla vostra discussione la prima domanda che mi è stata rivolta è quella di capire anche dal mio punto di vista brussellese diciamo quale qual'europa ci rimane dopo queste crisi ricorrenti e tra di loro collegate da quelle della 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 grecia a quella del della crisi economica che attanaglia molti dei paesi europea alla brexit alla rincorsa e anche alla crescita dei partiti populisti penso che ci sia in effetti un filo comune fra tutti questi eventi e un filo comune che si può riassumere nel micidiale nella micidiale combinazione fra un sistema di decisioni a livello europeo che non garantisce non favorisce una presa di decisioni democratica aperta trasparente e attenta all'interesse di tutti quindi un modo di decidere a livello europeo sicuramente favorevole ai coloro che sono contro a coloro che vogliono bloccare e sicuramente non a coloro invece che vogliono avanzare nell'interesse dei cittadini europei e delle scelte politiche determinate da maggioranze elette che sono andate in una direzione assolutamente opposta a quella di un'Europa sostenibile aperta e anche attenta al ruolo dell'investimento del pubblico nella crescita economica. Quindi credo che questa combinazione diabolica fra un'incapacità di decidere data anche da procedure negative perché obbligano al consenso non permettono di arrivare a delle maggioranze positive che poi decidono e che si sono una realtà che tra l'altro esiste fin dall'inizio dell'Unione Europea in cui si incrociano i veti e alla meglio soltanto chi blocca unito appunto a delle decisioni sostanzialmente di destra e fortemente conservatrici ci hanno portato a questo risultato. Penso che questi due elementi, le politiche sbagliate dal punto di vista economico ma non solo e il blocco o comunque l'inadeguatezza del sistema istituzionale sono due elementi che devono assolutamente essere tenuti insieme. Anche se tutti noi vincessimo le elezioni domani mattina probabilmente, e quindi ci fosse un'Europa verdissima, probabilmente avremo comunque dei problemi avendo un modo di decisione che non è né abbastanza democratico né trasparente e che obbliga a un consenso su tematiche nelle quali il consenso è molto difficile da ottenere. Ecco perché la nostra riflessione come Verdi Europei è anche quella di capire come attivare una dinamica che a partire da alcune proposte ben precise riesce a superare in qualche modo questo limite, cosa evidentemente estremamente difficile oggi, sarebbe stato più facile ovviamente 4, 5, 6, 7 anni fa, cosa che peraltro non abbiamo provato, ma pensiamo che oggi sia se non proprio l'ultima chance, comunque siamo di fronte ad un pericolo di disgregazione importante che non può più essere nascosto e che non può più essere visto in modo distratto nel bel mezzo di discussioni sul referendum costituzionale piuttosto che sull'ultimo caso di cronaca. Penso perciò che il primo elemento importante per ritrovare lo spirito dei padri fondatori che ricordo non era uno spirito popolare, era lo spirito di alcune elite che hanno visto più lontano dei loro stessi popoli che tra l'altro è anche un ruolo importante dell'elite, oggi siamo in un momento diverso e quindi appunto il primo elemento che mi interessa sottolineare è quello della necessità della creazione di un vero e proprio fronte democratico per l'Europa che non può che essere un fronte fortemente ecologista e fortemente progressista.